Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video del 10 di agosto. Come potete osservare siamo posizionati su Bitcoin, Dollar o dentro il sito di TradingView e stiamo osservando in analisi queste costruzioni che ho identificato per farvi vedere che comunque seppur il trend sembra rialzista, si sta formando una sorta di bandiera rimassista, una bearish flag che proprio potrebbe andare a toccare, ritestare eventualmente delle resistenze per poi scendere di nuovo giù o in condizione di migliore attesa potrebbe andare a ritestare questi valori precedenti di supporto, ossia di andarli a toccare o eventualmente andarli a bucare successivamente. Quindi visto che da un punto di vista grafico, sì potremmo essere naturalmente una situazione anche di ulteriore ribasso anche se il trend sta salendo quindi non abbiamo alcuna certezza, dobbiamo farci aiutare dai dati un chain e in particolar modo dai dati del Glassnode, il sito Glassnode che ci permette nelle ultime analisi di capire meglio in dettaglio cosa sta accadendo. Quindi il video ascoltatemi naturalmente fino alla fine perché serve assolutamente per cercare di capire in quale direzione siamo, se siamo in una direzione di ripresa del trend rialzista o in realtà siamo in una direzione ancora di forte segnale ribassista. Come potete osservare la settimana quella del lunedì, anche se lo facciamo oggi 10 di agosto è sempre rilevante perché sono dati che vengono quelli on-chain a subire delle modifiche almeno sul prezzo successivamente, non immediatamente. Quindi man mano che leggiamo il betting on the merge ossia meglio come scommessa sulla fusione, le scommesse sulla fusione possono essere naturalmente valutate perché man mano che i mercati dei derivati di Bitcoin ed Ethereum maturano nel tempo è possibile stabilire posizioni commerciali più importanti, più analitiche, più sofisticate utilizzando sia opzioni che future. Infatti come avete osservato anche io vi ho mostrato come funzionano le opzioni. L'unione di Ethereum, quindi questo merge, questa unione offrirà l'opportunità di osservare tale posizionamento di mercato anche su larga o larghissima scala. Andiamo un po' più avanti per cercare di capire i grafici, quello che ci mostrano i grafici. Come potete osservare, il mercato di Bitcoin è stato relativamente tranquillo, questa settimana consolidando 23.800 fino a un massimo di 24.000 quindi non è riuscito a romperli e un minimo di 22.486. Con le condizioni di mercato che comunque si stanno riprendendo da giugno abbastanza buona, una buona volatilità, si sta verificando quindi un sottile cambiamento nel posizionamento all'interno dei mercati dei derivati di Bitcoin e di Ethereum. Nella newsletter quindi di Glassnode di questa settimana esploreranno un notevole divergenza che si è sviluppata nei mercati dei future e delle opzioni incentrate sulla fusione di Ethereum, quindi sul merging prevista proprio per settembre. Sembra quindi che i trader utilizzino le opzioni call per scommettere sul prezzo di Ethereum a settembre, mentre i future e le opzioni all'indietro, quindi praticamente la funzione di short, indicano che è in gioco l'aspettativa di vendere sulle notizie. Questo sembra essere un posizionamento di mercato relativamente sofisticato o comunque di alto livello che aggiunge ulteriori prove del dispiegamento di capitali istituzionali, quindi di alto livello e quindi di balene grosse nella liquidità dei mercati dei future e delle opzioni delle cripto, soprattutto Bitcoin e Ethereum. Quindi dobbiamo stare molto attenti ad analizzare addirittura complicate metriche anche sulle opzioni e sui future, quindi non basta più guardare soltanto il prezzo a livello spot. Bene, andiamo avanti, naturalmente dal grafico abbiamo osservato, diciamo che c'è altro da dire su Bitcoin baseline. Per iniziare l'analisi andiamo ad osservare naturalmente queste metriche sull'open interest legato proprio ai future e quindi diciamo che il confronto dell'open interest in una denominazione di Bitcoin aiuta a isolare i periodi di crescita della leva dei future, quindi dalle variazioni del prezzo delle monete su base del dollaro, l'attuale valore di open interest che è di 12.4 billion dollar come potete osservare in alto a destra in blu, che è simile praticamente a giugno 2021, e questo è un valore relativamente basso ed equivale al mercato rialzista iniziale di gennaio 2021 e ai minimi delle vendite di 29.000 dollari nel giugno 2021. Quindi sembrerebbe da questa analisi che dovrei darvi come indicazione che stiamo ripartendo quasi in un mercato rialzista. Quindi qui naturalmente possiamo anche dire che c'è un alert idea, qua dice praticamente che la rottura dell'interesse sui future dell'open interest, sopra al di sopra di 550.000 Bitcoin, diciamo che questo valore segnalerebbe un nuovo all time high nella leva dei future, vedete ATH nella leva dei future, e suggerirebbe quindi una maggiore probabilità di un evento di deleveraging. Quindi occhio naturalmente a quello che potrebbe accadere. Naturalmente questo movimento sembra proprio corrispondente a quello che è avvenuto a giugno 2021, discesa e poi ripartenza. Quindi potremmo trovarci proprio in condizioni di ripartenza del mercato. Ma andiamo avanti con il volume dei future, vedete come il volume degli scambi dei future sembra essersi stabilizzato nell'area del crollo post luna, quindi il volume degli scambi ha subito un calo strutturale negli ultimi 12 mesi successivi al sell off di maggio 2021, ma sembra ristabilire un livello minimo circa intorno ai 33 miliardi di dollari. Almeno 33 miliardi di dollari all'oggiorno, dato l'aumento su larga scala dell'open interest, ciò potrebbe indicare che i trader sono sempre più disposti ad assumere un'esposizione al prezzo di Bitcoin dopo che i due principali eventi di capitolazione di maggio e di giugno sono avvenuti. L'idea naturalmente qual è? E' quella che qui vi dicono, alert idea, che il superamento del future, dei volumi dei future basati su 7 giorni come media al di sopra dei 45 miliardi segnalerebbe un notevole aumento dei volumi degli scambi e quindi suggerirebbe una maggiore probabilità di breve termine, almeno della volatilità. Andiamo avanti per capire altro, ossia Bitcoin, la percentuale dei future open interest sulla marginazione delle cripto, quindi su tutti gli exchange. Negli ultimi 18 mesi si è verificato anche un cambiamento nelle parametri. Quindi in altre parole circa il 60% del margine dei future è registrato tramite stablecoin e fiat, quindi eliminando la volatilità aggiuntiva causata dal cambiamento del valore del collaterale insieme ai contratti, ci significa che sebbene la leva dei future sia elevata, il margine sottostante sembra essere molto più stabile, riducendo quindi l'impatto della convessità negativa rispetto all'inizio del 2011. Quindi ecco, vedete proprio il grafico che mostra questa struttura praticamente, perché i future stanno valutando Bitcoin in uno stato di movimento in cui i trader devono pagare un leggero sovrapprezzo per ottenere l'esposizione a Bitcoin nei future. term structure, questa naturalmente è la condizione più comune per i mercati Bitcoin e il premio naturalmente da pagare fino a fine anno è di solo 3,24% e questo rendimento cash and carry è solo poco competitivo con i rendimenti disponibili sui titoli di stato statunitense e quindi, visto che è poco competitivo, non è ancora indicativo di alcun orientamento rialzista a lungo periodo, a lungo termine. quindi andiamo a valutare anche i future term structure basati sul dollaro dei Bitcoin. Vedete come questa struttura proprio mostra che l'andamento non è assolutamente per adesso indicativo, interessante, anche perché è un livello di neutralità riscontrabile nei tassi proprio del finanziamento degli swap perpetual che sono leggermente positivi e quindi producono un 2,3% su base anno per quanto riguarda i future del calendario quindi un rendimento leggermente positivo è normale e il livello dei tassi di finanziamento suggeriscono che vi è una distorsione relativamente ridotta in entrambe le direzioni. Nel complesso i mercati dei future su Bitcoin sembrano stabilizzarsi nel volume di scambi e suggeriscono quindi una leggera propensione al rialzo. Quindi l'open interest, sempre un parametro importante che vi rimando attualmente ai precedenti video dove spiegavo nel dettaglio che cos'è, è alto su base relativa di Bitcoin ma non tanto alto su base del dollaro. Ciò sembra indicare che i trader sono sempre più disposti ad assumere un'esposizione al prezzo di Bitcoin ma non stanno ancora scommettendo in base a dollaro quindi sembra che vogliano muoversi più sul Bitcoin. Sembra quasi una rottura dei tassi di finanziamento al di sotto che segnalerebbe della media a 7 giorni un'inversione negativa. Segnalerebbe quindi il fatto del premio attuale che sia in inversione che la rottura di sopra degli 0,005 indicherebbe e significerebbe un aumento del premio speculativo. Quindi i Bitcoin come fondo annualizzato al 2,3% è un valore abbastanza basso ma sembra che rappresenti proprio una sorta di movimento da parte dei traders verso più Bitcoin che rispetto al prezzo in dollaro. Quindi sembrano quasi un interesse più a mantenere i Bitcoin e a valutare guadagni in Bitcoin che al dollaro. Ma andiamo avanti. Bitcoin contro Ethereum. Molti stanno pensando di passare Ethereum grazie al merge ma qual è dei due il migliore? Quale parametro possiamo osservare per cercare di capire tra i due qual è il migliore? Naturalmente dobbiamo valutare l'open interest quindi basato sulle opzioni. Quindi valutiamo naturalmente il grafico e osserviamo il rosso, il blu e il nero dove il nero è il prezzo in dollari di Bitcoin, in rosso sono gli open interest delle opzioni di Bitcoin di tutti gli exchange invece in blu sono le opzioni dell'open interest di Ethereum di tutti gli exchange. Se osserviamo i contratti quindi di Deribit per quanto riguarda diciamo solo Deribit ma potrebbe essere una soluzione perché è il più grosso per quanto riguarda gli exchange quindi uniamo tutto quanto. Diciamo così che dall'analisi di questo parametro di questo grafico mostriamo dall'altra parte che i trader di Derivati stanno piazzando scommesse direzionali ovvero su Ethereum in particolar modo in relazione all'imminente merge previsto per il 19 di settembre. Per la prima volta nella storia l'interesse di apertura delle opzioni di Ethereum a 6,6 miliardi di dollari è ora superiore a quella di Bitcoin a 4,8 miliardi di dollari vedete come l'interesse praticamente è più su Ethereum che su Bitcoin e sebbene non sia ancora un massimo storico l'open interest delle opzioni su Ethereum è vicino a stabilirne un nuovo massimo mentre l'open interest di Bitcoin rimane ben al di sotto del picco ad appena il 35 per cento dell'all time maeg. Quindi questo è il grafico che sembra osservare e quindi andiamo sull'open interest by strike di Ethereum su Derivati al 30 di settembre 2022. Se osserviamo quindi almeno i contratti di settembre su Derivati il bias direzionale dei trader di Ethereum è evidentemente analitico le opzioni sulla call quindi rialzista sminuiscono le opzioni sulle put per dimensioni quindi con i trader che scommettono sui prezzi degli ETH fino a 2,2k dollari con un interesse aperto significativo anche fino a 5.000 dollari. Il prezzo massimo della situazione tuttavia è attualmente intorno a 1.35, 1.350 dollari praticamente come strike dei contratti il che potrebbe e porterebbe alla scadenza del numero massimo di opzioni out of the money e dato che questo è al di sotto del prezzo spot ad oggi si prepara quindi un mese molto interessante dal punto di vista della volatilità. Andiamo un po' più avanti per concludere vedete che abbiamo anche l'option implied volatility smile sempre su Derivati al 30 settembre diciamo che poi potremmo anche considerare anche la 28 di ottobre ma cambia poco ecco ci basiamo su questo per evitare di appesatire troppo diciamo il video con troppi minuti che naturalmente rischierebbero di non essere molto interessanti. Diciamo che concludendo con questo grafico che rimostra praticamente i vari periodi dell'open interest quindi della chiusura fino al 30 settembre 2022 dice che questa ampia domanda lato acquisto quindi di call di ETH in scadenza a settembre ha spinto quindi la positività sulla volatilità in uno stato di estrema tendenza rialzista per ETH e quindi sovrapposti a questo grafico ci sono delle barre di interesse aperte dove si può vedere che la pendenza alla rialza è fortemente guidata dai trader disposti a pagare un premio abbastanza anche alto per l'esposizione long delle call delle opzioni su ETH a scadenza 30 settembre. La volatilità implicita per queste contratti è ben al di sopra del 100% e quasi tutti i prezzi di esercizio quindi i trader più rialzisti che acquistano opzioni in call superiori ai 5.000 dollari sono disposti a pagare un premio di oltre 130% dovuto alla volatilità implicita quindi questo è sicuramente un dato abbastanza importante. E poi quindi concludiamo con un altro dato on-chain che non c'entra naturalmente esplicitamente con il discorso dell'open interest e siamo quindi con la struttura delle posizioni nette negli scambi in tutti gli exchange per ETH. Data la forte appropensione al rialzo sui mercati delle opzioni ETH ci si aspetterebbe che la domanda spot sia naturalmente piuttosto forte tuttavia uno sguardo alla variazione della posizione netta in borsa mostra che ci siamo solo meno 700 milioni di dollari sui prelivi netti al mese quindi meno sebbene quindi 700 milioni di dollari siano una grossa somma i prelievi di borsa impalidiscono rispetto ai recenti picchi di oltre 3 miliardi al mese e fino addirittura anche rispetto a 6,6 miliardi di dollari di interessi aperti di opzioni e quindi i prelievi mensili in borsa oggi sono solo del 2% delle dimensioni volume scambiati massimi dal punto di vista dei future o delle opzioni quindi questo rapporto ha raggiunto oltre il 20% ad aprile 2022 e novembre 2021 quindi per concludere la struttura dei future per ETH è naturalmente diversa dalla forma della curva di bitcoin ed è una condizione di backwarding ciò significa che i trader dei future quindi dei derivati stanno valutando ETH a uno sconto stopola lo suo merging di settembre allineandosi con il primo più alto pagato dai trader di opzioni sebbene lo sconto sia solo piccolo solo diciamo il 2,27 per cento di sconto annualizzato suggerisce che c'è un ampio grado di attività allo scoperto sui mercati dei future del calendario la spiegazione naturalmente potrebbe essere più probabile che gli investitori utilizzano i mercati dei future sia per coprire il rischio di ribasso sia forse anche per finanziare i premi pagati sulle posizioni in opzioni quindi i future come struttura sono proprio questi d'agosto 2022 a ottobre 2022 a gennaio 2023 vedete come il prezzo indicato è sebbene diverso e poi a derivate c'è una poi una curva di salita da febbraio 2022 in poi infine quindi come si analizza questo grafico diciamo questo possiamo vedere che la domanda dei future a breve termine su base di tre mesi si sta manifestando come un costo di carry negativo raggiungendo quindi il 3,6 per cento annualizzato ciò conferma che sono disposti a pagare un premio per la protezione del ribasso ciò dimostra come i trader siano posizionando si stiano posizionando sempre più in modo sofisticato utilizzando quindi gli strumenti dei future con una certa qualità quindi tuttavia non credo che siano i trader retail tutti in grado di analizzare e fare questo tipo di ragionamenti questo diciamo si riferisce soprattutto su delle grandi balene grandi istituzionali che hanno competenze in un certo tipo quindi suggerendo che i trader vedono la fusione principalmente come un'opportunità per l'esposizione ai prezzi e meno come un caso per una posizione spot più fondamentale per il movimento quindi in ultima analisi come conclusioni possiamo dire quanto segue la newsletter di glass node ha analizzato sia i mercati future che quelli delle opzioni per valutare ciò che il mercato sta valutando nel breve termine bitcoin come linea di base suggerisce che gli investitori sono disposti ad assumere una maggiore esposizione ai prezzi ma non hanno ancora assunto una forte esposizione c'è poca distorsione diciamo direzionale evidente nei mercati sul versante ethereum tuttavia i trader hanno chiaramente una propensione a lungo termine espressa pesantemente nei contratti di opzioni centrate a settembre quindi 30 di settembre sia il mercato future che quello delle opzioni sono in backwarding dopo settembre suggerendo che i trader si aspettano che il merge di ethereum sia un evento in stile compra le voci vendi le notizie e si sono posizionati quindi di conseguenza i prelivi spot invece per ethereum delle borse sono tuttavia relativamente modesti talmente piccoli rispetto ai recenti picchi di domanda o addirittura rispetto ai volumi del future delle opzioni e questo indica che i trader sofisticati stanno utilizzando la profondità di mercato dei derivati come strumento preferito per ottenere esposizione al prezzo copertura o addirittura guadagno da questo tipo di funzionamenti da questo tipo di strumenti derivati spero di essere vi stato utile di meritare un vostro like per il l'analisi che quindi conclude un ethereum sicuramente positivo rispetto a bitcoin vedete come ci sia maggiore tendenza rialzista e se noi dovessimo andare vedete le medie mobili e il prezzo che si trova al di sopra di queste due medie mobili seppur non a 200 periodi invece se volessimo andare a visualizzare bitcoin almeno dal punto di vista spot e non vedete che la media delle curve è sicuramente diversa addirittura il prezzo non riesce a rompere due medie mobili quella a 12 e quella a 50 periodi almeno su base di candele giornaliere quindi ragazzi da un punto di vista di acquisto spot se quello è il sentore se quello è il vostro sentimento perché volete comprare ma non volete fare trading tutti i giorni quindi volete holdare gli strumenti in questo momento bitcoin è posizionato sicuramente peggio di di ethereum e nell'ottica naturalmente di un acquisto a prezzi naturalmente sempre di sconto magari bitcoin potrebbe essere da chi fa holding preferito rispetto a ethereum nell'ottica di una eventuale discesa successiva a questo periodo che potrebbe accadere in virtù del fatto che siamo in un mercato birici non è riuscito a rompere nessuna media mobile addirittura il prezzo è ancora nel suo intorno e potrebbe tendere di diciamo di nuovo a di testare ulteriori mini dove c'è un volume profile che vedete è sempre più potente e presente rispetto a quello della parte sopra quindi deve fare di strada eventualmente bitcoin per poter rompere questi valori e invece potrebbe scendere diciamo di nuovo a oltretutto a 21.000 dollari se non addirittura di più in basso quindi grazie ancora per i vostri like se non l'avete fatto registratevi al canale e attiva della campanella per ricevere aggiornamenti futuri progressivi e giustamente time sensitive grazie grazie ancora ciao e alla prossima